Sono Claudia e sono una psicoterapeuta. In questi mesi di lockdown non è facile proseguire nel mio lavoro. Abbiamo riorganizzato i colloqui in modalità online, ho iniziato a sentire telefonicamente genitori e insegnanti che prima vedevo a scuola, ho continuato la mia formazione attraverso supervisioni su Skype e convegni in streaming, ho fatto anche due colloqui di lavoro che hanno esitato in nuovi progetti che stiamo iniziando adesso e spero andranno avanti. Insomma, quello che sicuramente posso dire è che nonostante la distanza fisica abbiamo trovato dei modi per essere vicini.